Siamo in pubblica posizione tra le squadre del Lusco, poi il campane, la gara, la gara, la gara, la gara, la gara, la gara. Lusco, è un vantaggio per cambiare i tranquilli. Siamo vicini, viviamo di nuovo al campo, Cantano all'estero, noi veniamo. 5 squadre in questo momento vicinissime l'arrivo a campi aiuto Cardano Red Black L'altro Bellusco aiuto invitiamo intanto le finaliste degli semi-offermini per l'americale Cardano Bellusco Cardano Bellusco Cardano Bellusco squadre 1.220 3.370 Go! ancora Bellusco poi Cardano poi Bellusco poi Red Black Siamo accanto di 1-9 Buone 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 Baroni con Andrea De Camasi Riccardo Rossi Comunichiamo Comunichiamo i finalisti del segno premio 1-9 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 3-3 1-9 4-3 1-9 Vai, vai, non ce la fai. Sono tutti abbastanza distanziati. Siamo vicina. Con Baroni e Rossi, sono in mente a giocarsi la prima posizione. Vi trovi loro a squadare in cardano. Sietica. Vediamo Baroni e Rossi. Scissi. Vediamo il cambio di miracolo. Con la Panini è in rotto. Solo i due del video si va a giocare in casa. Panini è rotto. Il fai sonnetico, il nervo del giocatore si va a giocare in casa. Guarda. Amore. All'interno. Guarda che ho deciso di fare con la stessa vecchia. Grazie.